Questi sono i futuri confrati dell'Arce Confraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice, già quattro, sono quattro che si iscriveranno. Ci sono quattro aspiranti confrati della Ciconfraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice e vogliono iscriversi e non vogliono perdere tempo. Tu come ti chiami? Gaviele Barba Angesca Giuseppe Bonvande Giuseppe Giangorius Ma avete chiesto informazione di che cosa tratta l'Arce Confraternita del Santissimo Sacramento? Che cos'è questa Arce Confraternita? Giuseppe Bonfante Una compraternita tra di noi e tra amici Che fate voi? Un'Arce Confraternita tra amici Ecco, intanto accogliamo il suono delle campagne E questo è il futuro dell'Arce Confraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice di Bussomeli E questo è il futuro dell'Arce Confraternita che non sobe È il futuro dell'Arce Confraternita delle campagne E questo è il futuro dell'Arce Confraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice di Bussomeli